Medio, anulare, e mignolo! Cosa fai con il mignolo? Pollice, indice, medio, anulare, mignolo! Fa questo! Pollice, indice, medio, anulare, mignolo! Mignolino! Pollice, pollice, indice, medio, anulare, mignolo! Tu, tu! Ora, dillo tu! Pollice, indice, medio, anulare, mignolo! Allora, dillo naso, e lo mangio! Ora, dillo naso e me lo mangio! Mnom, 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 mnom! Ora, dillo nasino e me lo mangio io! Mnom, 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 mnom! Mnom, mnom, mnom! Alza, alza, alza! Ok! Viva, vieni! Sì! Vieni! Iniziamo con quecavagliere! No! Vieni tu, guarda a me! Con che vuoi andare? Con nonno o con la nonna? Nonno! Oh! Con nonna! Con nonna! Oh! Nonna! Con nonna! come si chiamano questi qua come si chiamano questi non si chiamano pollici come si chiamano piedi alluce alluce un battone alluce